Una siciliana è morta in una sparatoria fra clan rivali in Iran. La donna originaria della provincia di Messina aveva 49 anni ed è stata colpita dalle pallottole sparate da fazioni opposte che si fronteggiavano nella notte fra martedì e mercoledì. La tragedia è avvenuta nella regione occidentale dell'Orestan, nei pressi del capoluogo Corramad in Iran. Non si hanno notizie certe sull'incidente che ha coinvolto anche il marito di origine iraniana, ferito negli scontri. L'uomo in un primo momento non aveva parlato dell'uccisione della moglie, secondo gli investigatori, per lo stato confusionale in cui si trovava. Solo nella mattinata di oggi è stato segnalato che il corpo della donna è arrivato a Teheran. Solo ieri un soldato italiano è morto durante un assalto al contingente in Afghanistan. L'alpino Tiziano Cherotti, di 24 anni, era la sua prima missione all'estero, feriti altri tre militari italiani.